Siamo arrivati prima della serata organizzata dal comune, dal sindaco di San Donato milanese. Perché vogliamo organizzare un piccolo flash mob per ricordare questo appuntamento che dopo quasi un anno dalla prima intervista del sindaco ai giornali sportivi finalmente si è deciso di aprire o comunque informare i cittadini su quello che sarà, adesso vedremo, l'iter di questo progetto. Quello che voi chiedete è un confronto reale e non solo un'informazione di facciata mi sembra. È corretto, il discorso di informare al senso unico non è secondo noi la via giusta per coinvolgere i cittadini. Informare i cittadini della cittadini a quasi un anno dalla prima dichiarazione pubblica sui giornali da parte del sindaco che era già entusiasta un anno fa del fatto che a San Donato potesse arrivare a fare qualcosa di nulla. Ecco, io faccio parte del commutato, non è stato stato nel 2016, siamo in calcio. Ecco, noi vorremmo che questa domanda e questa richiesta di referendum venga colta di poter partecipare realmente.